Eccoci qui, allora iniziamo subito a questo e l'album 2 che valido fino al 23 febbraio del 2016 Per prima cosa iniziamo a vedere questi colori, eccoli qui, e li vediamo anche nella pagina dopo perché sono questi, i rossetti in offerta 4,95 e quelli che hanno all'interno l'olio di ciliegia Questi altri colori invece che sono spettacolari, li vediamo anche nell'altra pagina, eccoli, 9,95 e sono davvero a lunga tenuta, quindi sono fantastici Andiamo poi in promozione tutti i prodotti per le labbra, quindi le matite labbra, le stilo che sono fantastiche, la matita quella trasparente e questi altri rossetti a 7,95 che sono quelli super idratanti Abbiamo ora la promozione perché abbiamo due matite queste, delle colore vegetale, a 12,95 Per farlo si fa la prima col codice nero e la seconda col codice rosso Iniziamo ora, eccoli, i set, quindi abbiamo il primo set che comprende il balsamo labbra nutriente e la crema nutriente viso, completamente biologici, a 11,95 Andiamo avanti con i set, abbiamo quelli da uomo, quindi abbiamo per la pelle fresca un set che comprende due gel doccia al vetiver a solo 5 euro Oppure, eccolo qua, il set doccia quello a menta graciale, sempre a 5 euro, il set da due Iniziamo ora con i pensieri d'amore, abbiamo questo ed è 7, sempre da uomo, 39,95 da linea Ambre Noir che comprende le de toilette da 100 ml, il gel doccia, quello per corpo e capelli e il deodorante profumato in questo bellissimo cestino Abbiamo anche il set della Hogar, che comprende le de parfum, le de toilette, questo da 75 ml e il gel sempre corpo e capelli a 19,95 Ora iniziamo con il set da donna e abbiamo a 22,95 in questo cestino molto carino ed è lilla e le de toilette da 75 ml ed il gel doccia profumato ed è questa la linea naturelle Ora abbiamo invece il set, eccolo, questo qua, da 22,95 della Naturelle Osmantus ed è con le de parfum ed è il gel doccia Altro set, Moments de Bonheur, 39,95 e le de parfum, eccolo, da 50 ml e il latte corpo e il gel doccia Oppure il suo elixir, sempre 39,95 che comprende sempre il profumo, il latte corpo e il gel doccia Continuiamo con il set, abbiamo a 9,50 e eccole qua, il set ed è questi, ecco, ad esempio, prendiamo l'esempio questo Ed è questo e quello al tè verde, comprende il latte corpo e il gel doccia a 9,50 euro Ovviamente abbiamo anche tutte le altre parfumazioni, quindi il set rosa fresca, ciliegie in fiore, mughette in fiore, agrume in fiore e lilla malva Continuiamo con il set e ora abbiamo, guardate questo, per la cura dei piedi, 9,95, comprende i gommage piedi e il balsamo ripartore che sono la lavanda e sono davvero fantastici Finiamo con il set per le mani, eccolo qua, il set ed è crema mani a 3 euro, due creme mani, quelle a lunga durata che sono perfetti in ogni stagione Vi mostro ora, eccola, che non è proprio una novità, però abbiamo rifatto tutto il packaging della confezione della Rich Creme Quindi abbiamo il trattamento super ristrutturante, elixir di bellezza, la crema nutriente benefica giorno, il fruido anti rughe sempre da linea benefica Ed è crema notte, la crema è quella per gli occhi Ed è latte corpo rigenerante, il balsamo nutrizione intensa Ed vedete che sono tutti in vasetti, reciclati, reciclabili, oppure in vetro che sono ecocompatibili Quindi davvero sono più, come possiamo dire, più amici dell'ambiente Concludiamo ora con l'ultimo set, che è poi della linea Zero de Feux che comprende a 29,95, il fruido perfezionatore antimacchie con potenzione 30 e il correttore mirato antimacchie E questo era tutto il catalogo Eccoci, ora che abbiamo concluso di vedere tutto l'album Vi ricordo che qui sotto, nell'info box, ci sono tutte le informazioni per gli ordini, per contattarmi tranquillamente C'è anche il link per scaricare nel formato PDF il catalogo, come sempre Vi ricordo che valido fino al 23 febbraio del 2016 e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente perfumati con il Maggi Catturale Mondo di Rocher